buongiorno ragazze stamattina siamo alla clinica santa maria la bruna con nunzia una bellissima donna che deve rifare il glutei e le ginocchia perché mi hai scelto non mi sei felice di voi che mi affido nelle vostre voi avrei visto qualche mio lavoro sicuramente va bene e anche a te farei un capolavoro perché sei benissimo adesso passiamo a fare un ritmo non chirurgico della zona interna delle cosce delle ginocchia e della culotte di spalla questo ritmo come lo facciamo lo facciamo grazie al renuvion j plasma vedete è uno strumento meraviglioso che praticamente tramite una radio frequenza e ci da questo gas che si chiama il mio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti